Dopo aver preparato la nostra macchina infernale, siamo ritornati a fare la nostra salcicciotta. Ah, guarda, il composto l'abbiamo inserito. Perfetto. Vai così, vai così. Va bene? Vai. Abbiamo svelato un altro seguito. Un altro seguito, le foto ce le avete agli atti. E allora ci sentiamo alla prossima ricetta. Un abbraccio, buona domenica, ciao. Bolle in pentola, ciao a tutti.